A causa del conflitto in Ucraina, il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e tutto il governo stanno riesaminando il piano per le forniture energetiche e in quest'ambito non è escluso che si riapra la partita del progetto che riguarda la realizzazione a Gioia Tauro di un impianto di rigassificazione. Lo ha detto parlando con i giornalisti nel corso di una visita nel porto di Gioia Tauro il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini. Gioia Tauro è il primo porto che il ministro visita e non è un caso perché dice lo ritengo il porto più strategico e di prospettiva del sistema logistico del paese. Durante il breve tour all'interno dello scalo il ministro è stato accompagnato dal presidente della regione Calabria Roberto Chiuto e dal presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio Andrea Agostinelli. Noi siamo di fronte a una realtà veramente straordinaria. avete avuto modo anche voi di vedere che Gioia Tauro è una realtà unica e che può diventare un motore di cambiamento non solo per ciò che riguarda il trasporto marittimo e quindi l'efficienza logistica di tutto il paese e dell'Europa ma anche come dicevamo col presidente anche per far crescere il retroporto, per far crescere le attività economiche. Sono particolarmente contento che il ministro Giovannini oggi abbia inteso fermarsi qui a Gioia Tauro perché questo porto peraltro lo dicevamo all'inizio del nostro incontro è cresciuto, si è sviluppato a volte nell'indifferenza della comunità nazionale e anche della comunità calabrese. È bello che oggi ci sia un ministro insieme al presidente della regione e che i loro sforzi in maniera corale possono aggiungersi a quella dell'autorità portuale, ai terminalisti per dimostrare al paese che anche la Calabria ha strutture infrastrutturali di eccellenza che possono essere una risorsa per il paese stesso.